Ragazze, buongiornissimo! Allora, benvenute in questo vlog e oggi vi porto in una mia giornata tipo, diciamo, e vi farò vedere un po' di shooting, perché oggi farò degli shooting, ma prima mi dedico un po' alle pulizie di casa e vi farò scoprire una cosa pazzesca per le pulizie di casa, una cosa che vi cambierà la vita e che veramente a me ha cambiato la vita, so che adorerete ed è favoloso, non vedo l'ora. Adesso facciamo le pulizie insieme e ve lo faccio conoscere. Lo faccio conoscere come se fosse un mio amico, però davvero, lo adoro, è una cosa che veramente mi ha cambiato la vita, quindi adoro. Ragazzi, la figata, cioè, avete mai visto un aspirapolvere che cammina da solo? Cioè, lui cammina da solo? Cioè, sì, guardate, cioè, noi non devo faticare a spingerlo, poi a diverse velocità, infatti, vabbè, poi parla anche, lava, lava e aspira. Guardate, 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 guardate qua, il mio nuovo gioiello, ce amo, cercavo una aspirapolvere che lavasse anche, ho trovato questa qua, della Dreamy, è fantastica, vi scrivo il modello, tutte le caratteristiche, è veramente pazzesca, a parte il fatto che lava il serbatoio per l'acqua, adesso lo devo cambiare perché ho pulito, lava, aspira e lava, si può usare sia sulle mattonelle ma anche sul parquet, sul legno, è super potente ed è veramente super innovativa, a parte il design, vabbè, lo sapete, io amo il bianco ed è super bella, anche da tenerla in giro, perché io odio vederla in giro quando sono, tipo, brutte, invece questa è bella anche da quasi carica, e vi faccio vedere, praticamente potete sia lavare che aspirare e poi vi parla anche, quindi adoro, vi faccio vedere, guardate, ora lei sta camminando da sola, è super potente, ecco qua, vedete, aumenta, vedete, adesso sta, guardate, lei cammina da sola e non la sto spingendo, c'era duro, e lava anche, è fantastica, guardate, guarda qua, ho pulito, la vi faccio vedere, ragazzi, vi faccio vedere, anche quando andate di fretta, con questa non vi stancate a fare le pulizie, è fantastica, facciamo la prova del caffè, vi faccio vedere, cioè, è pazzesco, veramente lo amerete, ok, ora inizia a lavare, guardate, cioè, ma avete capito, ma avete capito la potenza, ha pulito tutto, cioè, aspira e lava, è pazzesca, cioè, io l'amo, veramente, 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 pazzesca, salsa di pomodoro, no, non potete capire, dovete vedere, no, vabbè, ma adoro, cioè, ma avete visto, cioè, è pazzesco, guardate, ha pulito tutto, eh, vabbè, è la vita, lo amo, ma avete visto che meraviglia, cioè, questo aspirapolvere è fantastico, perché, per le persone come me, che tipo, per esempio, vado sempre di fretta, poi faccio cadere sempre cose a terra, mentre cucino, salsa di pomodoro, olio, tipo, avete presente quando si rompe qualcosa a terra, e dici, oh mio Dio, non sai se devi pulire, aspirare, lavare, con questo fate tutto, fate quelle passate veloci, tipo, per esempio, dopo pranzo, dopo colazione, invece di prendere prima di spazzare, spolverare, poi lavare, con questo fate un'unica cosa, ed è veramente ottimo, perché è super potente, super efficace, è veramente l'ultima generazione, anche il prezzo è conveniente, infatti, io vi lascio il link, ve lo metto nel box informazione, e anche nei commenti, come primo commento, se cliccate su questo link, avete uno sconto speciale, che è attivo per pochi giorni, quindi non ci pensate su, è veramente il top, per averla scontata, attraverso questo link, che trovate nel box informazione, risparmiate circa 100 euro, quindi un prezzo super esclusivo, riservato a voi, e ovviamente dura pochi giorni questa promozione, però veramente ve lo straconsiglio, perché se cercate qualcosa di veramente efficace, è lui, Dreamy, questo qua è un aspirapolvere che lava anche, provatelo, compratelo, poi fatemi sapere, veramente non ce n'è dei migliori, cioè a me mi ha cambiato la vita, adoro, soprattutto ora, che comunque vogliamo stare sempre puliti, igienizzati, è veramente l'innovazione, perché in un unico gesto, lava, spolvera, e avete i pavimenti sempre puliti, io lo userò tantissimo anche nella casa nuova, dove sarò fissata dai miei pavimenti, e quindi ogni giorno posso fare una passata, in 3 secondi sto pulita, lucida, molto igienizzata, quindi adoro, vi lascio il link, compratelo, che è veramente il top. Comunque mi sono conservata anche la scatola qua, perché ho detto, la faccio vedere alle ragazze nel video, così vedete bene qual è, Dreamy H11, wet and dry, quindi lava, asciuga e aspira, quindi sia un aspirapolvere che un lavapavimenti, ed è super potente, infatti vedete, ha una capacità di serbatoio grandissima, una potenza grandissima, è veramente veramente super innovativo, io lo amo, quindi ve lo straconsiglio, poi vi arriva subito, e risparmiate tantissimo, dal link che vi do io, veramente risparmiate un sacco, ed è, cioè, secondo me è una rivoluzione, lo dovete avere ragazze, cliccate nel link nella box informazione, e prenotatelo, perché veramente... Grazie, oggi pranzetto, Hilti Light, con fresa di tacchino, alla piastra con rosmarino, cetrioli, rucola, insalata adoro, io l'adoro, pomodori sedano e olive, un po' d'origano, e poi questo qua, raga, io lo amo, se non lo conoscete lo dovete provare, pane azimo, proprio questo qua, troppo buono, io lo scaldo al microonde, poi ci metto un filo d'olio e di sale, buono, e la cosa bella è che non ha lievito, quindi non gonfia, buon appetito, c'è anche Pupi, aspetta che cata qualcosa, ciao Pupi, saluta, ciao ciao, fisso il tacchino, cadi, cadi, Ciao, salutiamo, salutiamo questo vlog, che mamma sta... mamma, chi è mamma? Mamma sta montando il video, mamma sta montando il video, e saluta, saluta tutti gli amici, non vuoi più il pane, scusa ma mi togli la luce? No, ormai sei su YouTube, armando la pieta, vuole essere troppo protagonista, ragazzi, comunque, ma che cos'è? Cioè, ma scusate, ma è gelò? O è carità dolce? Comunque ragazzi, adoro, perché oggi è giornata di shooting, ho fatto questo trucco, pazzesco, ora ve lo faccio vedere meglio, raga, ma adoro, cioè, no, vabbè, ma che trucco è? Cioè, bellissimo, amore, ma sai che rende un sacco in video? Cioè, stiamo facendo shooting, e per delle cose su Instagram, dei lavori, adoro, comunque il trucco me l'ha fatto Emanuela Spinuso, che è una make-up artist, che su YouTube, cioè su Instagram, è bravissima, fa un sacco di tutorial, magari seguitela, perché è proprio brava, è un bel trucco mi ha fatto, mi piace un sacco, raga, abbiamo utilizzato tantissime cose di Nabla, la scheria, l'ist, comunque, tutte le cose di Nabla che ho trovato, ovviamente, su Carlita Shop, e adesso dobbiamo scattare, tra l'altro il tempo ora è diventato cupo, quindi, vabbè, no, comunque questi sono quei trucchi che non vorrei struccarmi mai, guardate quanto è bello, adoro, mi faccio pure, grazie, il tempo nel frattempo è diventato nuvoloso, noi dobbiamo scattare le foto, quindi useremo le luci da Barbara Russo Style, ragazze, mi sono messa anche l'abitino, ho appena fatto anche un TikTok, venite a vederlo, e c'è anche il mio coricino, il mio coricino che è stato poco bene, ciao, saluta, saluta amore, manda un bacino, amore, manda un bacio, un evidenziatore, è vero, comunque qua stiamo registrando, c'è anche Armi, mio super fotografo, e niente ragazzi, sono bellissima, che più bella non si può, adoro, adoro, e mi metto da fesso il silicone, mi metto da fessi il silicone, è scioccata, balla, Pupi vieni Saluta tutti i tuoi amici Ciao Anche Pupi Non la faccio un derro Non la faccio un derro Pupi Ho appena scattato questo look Armi cosa hai detto? Armi Vieni a dirlo su Youtube Cosa hai detto? Cosa hai appena detto? Armi Sei vergognata Hai detto sembra una ragazza di 20 anni Cioè Venite su Instagram E vedere queste foto hot Bellissime Tenta di stare con una come me Amo mi sapre queste di cuore Ma è vero Ma quanto trash in questo video Amo Quanto trash ragazzi in questo video Non possiamo metterla così Amore Ti piace come sono? Come sono? Fammi complimenti Amo sei stupenda Sembita la ragazza di 20 anni E' per il colore pelle Ok Ma i miei occhi verdi No vabbè Adoro Troppa Sare Amore Amore vieni qua Facciamo la miniatura insieme Amore ma ti piace sono bella? Sì Ma io più bella Anche Gesù Amore è bellissimo E anche Daniel Vai Ragazzi Sushi Dopo una giornata Di lavoro Questo è quello che ci vuole Guardate quanti bei sushi Nel frattempo Daniel sta mangiando Adoro C'è anche un po' di pochè Con edamame Mi piace tantissimo Con edamame E wakame Adoro 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 Sarsa di soia che io mischio sempre con il limone Per alleggerirla Perché se no è troppo salata Fatelo anche voi E' molto più buona E poi ho fatto questi involtini Se vi ricordate che c'è anche un video Dentro ci ho messo Carote a julienne Cetrioli a julienne Rucola Gamberetti E si può mettere anche un po' di filadelfia light O di avocado Sono molto buoni con i fogli di riso E queste Queste sono i sarsini Adesso mangiamo Amore è fame? Sì Vediamo l'ora di mangiare Buon appetito Amorino ha mangiato tutta papina Com'è la pappa? Vedete come mangi il prosciutto da solo? Bravo amore Bravissimo Raffreddato Perché ha ancora la tracheite E mi amore È stato poco bene Vero amore? Sì Adesso sta guarendo Mi amore Ora Dobbiamo aspirare i buchi Va bene Buonanotte Mettete like al video E vi aspetto su Instagram Mi raccomando Per vedere anche tutte le foto Che abbiamo fatto Ciao amore Saluta Amore Vuoi fare questa dichiarazione Se ci siamo lasciati o no O siamo ancora insieme Perché la gente ci chiede Dice Vi siete lasciati Ragazzi Tenevi tutti pronti Sono libero Tutto per voi No amore Facciamo Amore Amore Questo video si chiamerà Facciamo che ha chiarezza Perché ci siamo lasciati Vuoi dirlo Perché Niente è bello Sì perché Voglio stare solo con Dan E lui vuole stare solo con la mamma Amore Amore È discorso serio Perché ci siamo lasciati Non mi ricordo Vuoi dare un consiglio Ai follower Come Durare di più Di coppia Un consiglio per una relazione Duratura Quando le ragazze Vi rompono il cazzo Voi girateli dall'altra parte Ma come Hai detto una parolaccia Che non puoi dire Saluta tutti Allora quando Le ragazze Ciao Saluta Aspetta Saluta Saluta mamma Aspetta guarda Saluta mamma Saluta Saluta con la mano così Ciao Ciao E saluta E saluta così Ciao Saluta Manda un bacio Manda un bacio qua gli amici Bacio Ciao Ciao Dove è andato di là Vabbè Concluderei così ragazzi Seguite i consigli Di Dario del Re Cosa 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 Grazie a tutti.